Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, farò la recensione di un fumetto di Landog creato nel 1986, è un fumetto dell'orrore, questa è un'edizione del 2017 e svolta a Cosenza, guardate che bello. Saluto Samubrina, Citta, Ale, Aliciotola, Mariuccia, Markkolf, Ilaria, Magellan, Peter, Tim, Michi, Robby, Toni, Cante, Festival, Domenico, Leo, Tassoni, Bulluni, Van Drago, De Rocco, Orto, Giulio, Alessio, Uga, Henry, Amico di Ale, Gianluca, Popone, Mac Finder, Mister Bike TV, Rent Boy, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.